Che coppia noi tre, The Show è uno degli eventi di punta della nostra estate trinitapolese. Uno spettacolo che abbiamo potuto vedere nelle nostre televisioni su Rai 2, era trasmesso su Rai 2 questo inverno e piace tanto alla nostra cittadina. Siamo contenti di averlo fatto qui all'aperto, in Villa Papa Giovanni e abbiamo appunto voluto regalare questo spettacolo completamente gratuito alla nostra cittadinanza. Un cartellone estivo ricco di appuntamenti differenti per un'estate bellissima a Trinitapoli. Grande successo e fragorose risate per lo spettacolo dei tre talentuosi volti noti della TV via Gioizzo, Stefano De Martino e Francesco Paolo Antonin che coppia noi tre. Di là del lavoro siamo amici, ci frequentiamo, andiamo in barca insieme. Mettiamoci insieme, creiamo una bella situazione e io mi sono preso l'onere di produrre questo spettacolo e quindi abbiamo creato questo show che coppia noi tre che poi il titolo arriva da una fan che ci disse voi due siete un bel trio. Un evento inserito nel cartellone di Trinitapoli per regalare momenti spensierati in un periodo storico difficoltoso, sostenere così l'economia di un territorio sempre molto amato. Volevamo organizzare durante l'estate qualcosa per loro che non hanno lavorato. Veniamo a due anni difficili, vediamo da un momento che non è stato semplice soprattutto per il mondo dello spettacolo e allo stesso tempo avevamo l'esigenza di far lavorare tutte quelle aziende che a Trinitapoli avevano sofferto durante le chiusure. Quindi abbiamo pensato a organizzare una serie di eventi, soprattutto quello di Cabaret oggi è uno di punta, è forse quello di Cabaret di punta per l'estate trinitapolese. Per noi è importante ricominciare, risentire il pubblico, riassaporare il contatto con la gente. Cabaret lo stiamo facendo anche per quello, oltre ad avere la meravigliosa sensazione di essere accolti con grande calore. Nonostante il periodo è stato difficoltoso, stiamo comunque riuscendo a mantenere alta anche la soglia del divertimento. Lo sappiamo, dobbiamo resistere perché abbiamo avuto un periodo difficile, lo sanno anche tutti gli operatori del settore, anche per il teatro, lo sappiamo, ci sono stati momenti bui, ma noi riusciremo ad uscire fuori da questa situazione. Un trio che ha incantato il pubblico presente, affascinato dalla magia di un matrimonio artistico perfetto che ha regalato grandi consensi. Io poi interpreto sempre me stesso, quindi recito fino a un certo punto, mi presto a questo spettacolo con due invece che fanno gli attori. Lui ride tantissimo, anche sul palco, quindi quando si ride sul palco quasi sempre si ride anche giù dal palco.